Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video probabili formazioni di Juventus Atalanta partita di sabato sera che potrebbe essere veramente quasi direi decisiva per il campionato devo essere sincero, sono già sollevato di aver matematicamente il più 4 che era quello che sognavo prima di questo trittico terribile, quello di Torino, Milan e appunto Atalanta devo essere anche altrettanto onesto nel dire che non pensavo che la Lazio le perdesse tutte ma avere il più 4 dopo questo ciclo, forse l'ultimo ciclo terribile della Juve quest'anno sarà importante secondo me, se fosse più 7 sarebbe probabilmente l'end of the tournament e allora vediamo la prova di riformazione, sicuramente gioca Cech e lo mettiamo in porta, fortunatamente torna quest'uomo qua, quest'uomo qua, quest'uomo qua, torna torna, anzi a proposito dopo sabato, dove vediamo, prendiamo questo qua, lo mettiamo in fondo e mettiamo Vrioni nei possibili, anzi Coccolo che è difensore, quindi teniamoci Coccolo in panchina e non Rugani che è il più lontano possibile da me, come dice Ronaldo, Giovanni e Giacomo la formazione deve essere questa, con Quadrado e Danilo esterni perché c'è Alexandro ma ancora secondo me non è in grado di giocare 90 minuti quindi verrà messo Danilo a iniziare la partita secondo me poi De Ligt, Bonucci, centrali, Rabiot, Pjanic, Bentancur, Bernardeschi Di Bala e Ronaldo questa è la formazione con il solito cambio di metà partita più o meno, che è questo fuori Pjanic dentro Blaise Matuidi e fuori Danilo, scusate, fuori Danilo, buonanotte fuori Bernardeschi e dentro Douglas Costa, questa più o meno sarà la formazione con i cambi questa sarà la formazione dopo nella seconda parte della partita con i cambi ma la formazione iniziale ve la rifaccio rivedere ancora perché è interessante è ancora questa con Scesni, Quadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo, Rabiot, Pjanic, Bentancur, Bernadeschi, Ronaldo e la Hoia che tanto è mancata sabato a San Siro anche se devo essere sincero martedì a San Siro non sabato chi è mancato di più è quest'uomo qua, quest'uomo qua, quest'uomo qua, cavolo Matisse non ti fa più ammonire mai più nella vita perché ci servi ragazzi io vi saluto, vi do appuntamento ai prossimi video ovviamente domani col post partita di Juve Atalanta, ciao a tutti